ho prenotato un'operazione laser agli occhi quindi domani ci vedrò senza occhiali quindi quelli li posso pure buttare il mio avvio per la kinka mamma mia moglie sono troppo emozionato troppo emozionato allora ragazzi c'è stata delle comunicazioni nonostante e mo come stai ho provato a farla quattro cinque volte ci sono riusciti dal destro domani mattina riprovemo al sinistro non ti preoccupare vede che ce la fai potevamo andare bene ragazzi ma che prima stavo un po adesso sono tornato in me questo occhio con mille difficoltà ci siamo riusciti a portare a termine l'operazione questo qua questo non siamo riusciti a fare un cazzo un'operazione che dura cinque minuti sono stato un'ora a fare solo un occhio domani mattina alle sette torniamo qui e ci riproviamo con quest'altro occhio buongiorno e io sono riuscito a dormire alla fine e sta tornando di nuovo in clinica per provare a fare l'altro occhio perché se c'è una cosa che non posso fare quella e mollare buonasera ragazzi allora dopo una bella dormita sono riposato un po adesso sto bene fortunatamente poi c'è l'occhio che non si può guardare mamma mia e però sto bene ci vedo e ci facciamo un giro per roma buongiorno ragazzi allora la nottata è passata già sto meglio questo occhio quasi ripreso questo quello là che ho fatto due operazioni e purtroppo è un po dolorante quindi adesso prima cosa andiamo a comprare un paio d'occhiali da sole ray ban così faremo i figli e poi andiamo a fare la prova visiva andiamo a vedere i posti più belli di roma si vedi? siamo a piazza navona se non mi sbaglio esatto ragazzi ciavi nuovi appena comprati vedi? appena comprati sono andando dal papa per il miracolo avuto piazza san pietro papa 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 e credo questa è l'ultima tappa ho visitato tutta la basilica di san pietro e me ne devo andare solo a casa mi fanno male gli occhi mi fanno male le gambe ora da piazza a san pietro è tutto ma mi gira la capo siamo andati a visitare the poop the poop ora andiamo a casa si ci arriviamo ma fa 20 minuti a pera dobbiamo fare 20 minuti a piedi se li fa se le fa questa ragazza se li fa ci vedo ci vedo quindi operazione riuscita è andata all'etofine questa situazione sono contento vi saluto e vi guardo al prossimo vlog